Si stanno concludendo i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di fognatura in via Gorizia a Pordenone. L'intervento è finalizzato al corretto smaltimento delle acque nere e in questo modo sarà possibile collegare al depuratore alcune condotte che attualmente recapitano il refluo nella roggia circostante. L'assessore comunale all'ambiente è Nicola Conficoni. Siamo in via Gorizia dove si stanno concludendo i lavori di sanamento della fognatura, un investimento di 190 mila euro, un intervento eseguito dal comune di Pordenone grazie a un contributo erogato dalla regione Friuli Venezia Giulia e finalizzato al corretto smaltimento delle acque nere. Nei giorni scorsi finalmente la rete fognaria che serve quest'ambito è stata collegata al depuratore e in questo modo il refluo non viene più scaricato direttamente nella roggia Codafora, nel corpo recettore, ma viene avviato all'impianto di via Burida per essere trattato. Un fatto di civiltà che consente di migliorare la qualità delle acque e di raggiungere gli standard fissati dalla comunità europea che sono più restrittivi. Nei prossimi giorni il cantiere prima della donata degli alpini verrà smobilitato e successivamente i lavori riprenderanno in vicolo delle mura per realizzare un altro intervento finalizzato ad aumentare la capacità di depurazione che è la principale criticità ambientale della nostra città.